Allora già dai primi minuti la Virtus Castelfrendano è in vantaggio per una rete a zero. Ha segnato Enrico Caporale, adesso c'è un contropiede della spalla, intanto diciamo la formazione dei nostri ragazzi, al numero uno Matteo Francesco Dottavio, numero due Alessio Ceroli, numero tre Federico Tucci. Numero quattro Bartolomeo Cirillo detto Bartolo, numero cinque Nicolò Dancelo, numero sei Nicola Perrucci, numero sette Giallonardo Emanuele detto Lele, numero otto Enrico Caporale che sarebbe il ragazzo che ha segnato la prima rete per la Virtus, numero nove Luca Rulli, numero dieci Gianluca Malbone, ecco quello che aveva la palla adesso, numero undici il nostro bomber capitano Key di Mata in banchino, il secondo portiere non c'è, con numero tredici Filippo caporale, sedici Alessandro Ramundi, diciassette Masciarelli Fabio, caporale, secondo portiere, chi l'ha fatto? Eh non ho visto, ecco scusate c'è uscita la seconda rete, non so chi l'ha fatto, stavo distratto, il 18 Cristian Nasuti e il 19 Guido con la Izzi che deve ancora arrivare. Al momento 2 a 0 per la Virtus Castelfrendano.